Ciao, il mio nome è Sara e oggi vi faccio vedere la mia casa. Questa è il mio salotto, è la mia sala e qui io e i miei conquilini passiamo un sacco di tempo a guardare la televisione o a giocare alla Playstation, però per lo più la usiamo come lavanderia, infatti ci sono degli stendini. Questa è la mia cucina, questo è il tavolo dove pranziamo, facciamo colazione e dove ceniamo, quindi sedie, tavole, non usiamo una tovaglia ma usiamo le tovagliette. Questo è il mio freezer e questo è il mio frigorifero, vi do un esempio di quello che mangio, da brava italiana mangio pizza e ovviamente mozzarella. Ora vi faccio vedere il microonde e la mocha per fare il caffè, qui è dove tagliamo il nostro cibo, dove lo prepariamo e poi lo cuciniamo sul fornello, chi preferisce può usare il forno però. Abbiamo la lavatrice e l'asciugatrice in cucina, in Italia non ce l'abbiamo in cucina, lavastoviglie. Poi qui c'è il lavello dove laviamo tutti i piatti sporchi alla fine del pranzo, della cena o della colazione e qui li lasciamo asciugare. Ad esempio c'è una pentola, ci sono piatti, tagliere, bicchieri e posate varie. Ora siamo al primo piano e questa è la doccia che condivido con la mia tranquillina Kate. Qui teniamo i nostri prodotti come lo shampoo, il balsamo, il fettine o quel bagno schiuma, quello che ci serve per lavarci. E nella vetrinetta abbiamo anche altri tipi di prodotti come il filo interdentale o l'acqua per le lenti a contatto, ad esempio qui. E infine questa è la mia stanza che è in mansarda, quindi al secondo piano. Questo è il mio letto, qui ci sono dei miei vestiti perché sono una persona abbastanza disordinata, quindi sono sempre sul letto. Questa è la zona dove studio, questo è il mio armadio, il mio guardaroba dove tengo tutti i miei vestiti. Un'altra cosa che posso farvi vedere è la mia parete con tutte le foto, tutti i ricordi. E fine!